come on let's twist again like we did last summer oh let's twist again sorry guys this was being in italia so quindi soluzioni soluzioni la gente chiede soluzioni e ritorniamo a parlare il nostro amore vc e che ricordiamo vc sono questi qualche che combattono in questo modo qua basta una bomboletta per combattere di cosa si parlerà in questo video in questo video si parlerà di soluzioni molta gente grazie a telegram ragazzi che è il nuovo discord io avevo un disco c'è un canale dove prima ecco non posso farvi vedere però a questo angolo qua non voglio farvi farvi vedere i dettagli però se volete comunicare con me più frequentemente potrete potreste usare telegram che si trova il link sta nel mio canale youtube e telegram diciamo abbastanza libero no però il problema come ho detto prima che il cervello della pecora non è il libro e quindi continuano a cadere di trappola in trappola però oggi troveremo finalmente perché uno può dire ma marcello sei veramente noioso dici sempre le stesse cose non si può fare questo e non si può fare questo e questo è controllato e questo qua ci dice le bugie qual è la verità marcello la verità la vita e la via e il signore cristo gesù allora però per quelli che si vogliono si vogliono salvare in modo più fisico più materiale diciamo questo è un video per loro ecco per esempio qui abbiamo vivi che ci offrono solo una possibile soluzione no quindi compra la bomboletta vai nei muri scrivi i vi fanno male e scappa senza parlare con nessuno da deficiente comunque potrebbe essere una soluzione diciamo per quelli diciamo così alle prime all'inizio della della fase ribelliosa potresti potresti usare questa tecnica qua di andare a scappare di corsa oppure come fanno loro tipo vanno in qualche muro che non vede nessuno in periferia scrivono questa cosa qua e poi scappano ma non è vero che loro sono dei duri che cazzo dici allora e poi c'è sempre sto dubbio ma come fanno loro ad avere un canale vivi ragazzi cioè questi minchioni qua hanno un canale youtube che youtube censura proprio alla grande dove dicono chiaramente quello che c'è scritto là che non posso dire e anzi c'è pure il rischio che perché ho sentito che youtube legge quello che c'è che hai messo nello schermo e ti blocca il video quindi anche questo video potrebbe benissimo essere bloccato ma come mai invece loro nei loro live che questi hanno un canale youtube questi vv no vc diciamo vc hanno un canale dove parlano e dicono anche con quella frase lì che scrivono che c'è scritto lì ma youtube non li blocca misteri misteri e a me se io lo dico mi bloccano per magical misinformation cose che dovrebbero farti pensare pagorella guerriera perché loro chiamano guerrieri questi mongoloidi che vanno a scrivere nei muri ma comunque è già qualcosa è come un bambino no fa la prima tipo non fa la cacca nel nel pannolino però lo fa nel nel water no è già un primo passo non possiamo diciamo darti il nobel diciamo o premiarti come la persona dell'anno però è un primo passo diciamo e anche loro questi qua vv diciamo andare a scrivere con la bomboletta il v fa male è già il primo passo per diventare un vero guerriero però ecco loro chiamano questi poveracci che vanno a scrivere il logo di winchester il guerrieri è un primo passo ok va bene il primo passo fermiamo la trappola però comunque si è una perdita di tempo allora però vediamo perché nel questo ultimo live vv ha detto qualcosa di io non so che cazzo l'ha detto questa cosa qua perché io non posso io non posso stare fermo con le mani nelle mani troppe cose devo fare prima che venga domani ma sto a inventare le parole sono esattamente le 4 e 56 di mattina e io canto perché no non c'è più tempo ma sentiamo che vci ci dirà una soluzione ma purtroppo tu sei un coglione e gli vai pure a chiedere e gli vai pure a credere non chiedere allora vc dice è stata interessante questa cosa che ha detto ripeto io non so ragazzi io mi trovo in una situazione tragica per quanto riguarda internet nel senso che non ho modo di anche quando uso telegram per dire io se c'è se qualcuno mi vedesse come cazzo faccio perché io non sono contro diciamo queste frequenze le radiazioni e quindi che faccio ho una specie di schermo fuori dalla finestra e lì metto metto lontano quindi il mio telefono poi c'è un adattatore con la prolunga usb e quindi io posso usare telegram senza usare il telefono diciamo protetto dalle radiazioni ok questi sono dettagli che per voi possono sembrare cazzate che siete costantemente bombardati da queste radiazioni però per me è importante no questo per dire che io non uso il telefono il mio telefono si sul mio telegram potete anche vedere il mio numero di telefono però non c'è fate in cazzo perché io non lo accendo mai il telefono quindi lì c'è anche il mio numero di telefono facevolo il cazzo e beh e tra l'altro Tim ha detto ultimamente che siccome faccio schifo il mio telefono è vecchio mi ha detto perché io sono un coglione io uso il 3G perché so che ti fa da meno meno radiazioni no che cazzo ne sai da queste cose ah facciamo e insomma mi ha detto Tim che fra poco ad aprile tu fai schifo o compra un telefono 5G o ecco non dovevo dire 5G per dire insomma ma ritorniamo alle soluzioni eh ritorniamo alle soluzioni perché WC adesso ci vuole dare un po' di soluzioni eh dice WC no ripeto questo qua perché è testo questa cosa qua e non ti faccio sentire l'audio e il dvc perché io sto al limite con i giga e qui Alice mi prende in giro ovviamente eh limite con i giga nel senso che ho un'offerta del telefono che è limitato no che i giga al mese sono veramente pochissimi e quindi che faccio addirittura per vedere un video io adesso in questa situazione io scarico il testo e basta e quindi io non so chi l'ha detto queste cose qua però so che è stato nel live di WC dei vivi questi rivoluzionari che secondo me sono il sistema stesso che acchiappa e fa perdere tempo a tanti minchioni che potrebbero usare la loro energia in modo un po' più costruttivo però invece perdono tempo a fare questa cosa qua che ripeto non serve un cazzo perché se tu come ho detto nell'altro video dai la tua propaganda alla peco propaganda se vuoi chiamare questa la nostra propaganda alla pecora che vede che è stata già ha già preso il V non so se ti è chiara questa cosa quindi a che cazzo serve scrivere questa cosa qua e loro si limitano a questo e vi uccidono si lo posso dire e vi uccidono devo stare attento per quello che parlo e lo dicono ai morti che l'hanno già preso il V quindi pensa che cazzo di coglioni sono incredibile sono io ecco quindi in questo ultimo live WC dice perché gli altri gruppi si limitano continuamente a dire che c'è il lupo cattivo e va bene c'è il lupo cattivo e il lupo cattivo ha fatto questo e il lupo cattivo vuole fare quello e guardate che sta arrivando e guardate che lì mangerà che vi mangerà lo sappiamo dice abbiamo capito noi abbiamo ormai le palle piene di questo lupo cattivo però ora dice lui qua in questo live qualcuno di loro qualcuno mi dica per favore come sconfiggere il lupo cioè quindi la pecora dice qualcuno mi dica come sconfiggere il lupo già chiedersi cosa devi fare a qualcun altro già ti rende schiavo perché non vuoi usare la tua testa su come combattere il lupo anche perché il lupo nel frattempo che noi abbiamo dormito per migliaia di anni ha costruito un sistema che è impensabile fare qualcosa per contrastarlo quindi un minimo di di unione servirebbe però l'unione l'unione non serve ragazzi quando per dire gli uccelli quelli che fanno tutte quelle forme strane che si volano tutti insieme si muovono tutti insieme fanno tutte quelle forme strane loro non hanno una testa in alto chi dice che devono fare loro fanno quello che è giusto fare e il risultato è un'unione bellissima ok la stessa cosa potrebbe potrebbe venire con noi noi potremmo essere in sintonia con tante altre persone come noi che la pensano come noi ma quale potrebbe essere questa cosa questa cosa potrebbe essere semplicemente fare la cosa giusta eh ma io non so qual è la cosa giusta ok andiamo avanti col video e forse piano 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 ripeto ma nessuno dice all'uccello come deve volare però lo fanno tutti insieme perché non sono programmati e rincoglioniti come noi che siamo completamente confusi ognuno ha idee diverse e tutto quanto quindi bisogna fare un po' di chiarezza e saremo potenzialmente indistruttibili eh perché ovviamente una cosa che dovete capire ragazzi che telegram qua no che mi sono unito anch'io a questo manicomio chiamato telegram dovete sapere che per quanto loro ti possano dire che eh che è sicuro e tutto quanto ma fammi vedere se sto registrando si sto registrando meno male eh non esiste cioè noi stiamo usando le armi del nemico e il nemico sta sentendo tutto quello che noi stiamo dicendo quindi ma chi sente per dire l'uccello cioè il predatore che vuole mangiare quegli uccelli là non ha la capacità di prevedere dove andrà l'uccello perché legge quello che dice su telegram l'uccello fa quello che è giusto e basta e scappa sempre il nemico mamma mia perle dopo perle vi sto dando cazzo con analogie semplici analogie semplici cazzarola il Nobel mi devono dare mamma mia che spettacolo eh Alice puoi per favore mettermi il pollice in giù perché io godo quando vedo il tuo ah ripeto eh per tutti quelli che vogliono mettere il pollice in giù però siccome youtube adesso ha tolto il pollice in giù però io vi ricordo che il pollice in giù esiste sempre cioè io chi ha fatto il video vede i pollici in giù quindi io vi incito a mettere tanti pollici in giù perché io li vedo e non che me ne freghi molto però però voi cliccate perché vi carica un po' quindi come sconfiggere il lupo dice il WC adesso WC ci darà la soluzione di come sconfiggere il lupo perché sinceramente quello che manca negli altri gruppi le altre trappole è proprio una strategia per combattere il lupo e loro adesso ci diranno la strategia ragazzi ecco qua allora WC dice qui bellissima domanda questa cosa cosa qua iniziale questo primo paragrafo però il problema è quello che risponde dopo è tutta una minchia quindi dice ma d'altro canto ti pongo una domanda dice WC ma di fronte a qualcuno che sta cercando di ucciderti come ti dovresti comportare bellissimo questo è esattamente io prima di iniziare a fare questo video e prima di leggere quello che ha detto lui in questo video qua stavo pensando a come dire in questo video che sto facendo adesso alla gente che mi chiede di soluzione per dire quale potrebbe essere una soluzione e io volevo esattamente fare questa domanda qua quindi WC mi ha letto nel pensiero quando ho letto questa cosa qua perfetto cioè esattamente questo io ti dico la stessa domanda che ha fatto WC se qualcuno sta cercando di ucciderti come dovresti comportarti ok secondo WC la soluzione sarebbe che noi siamo delle persone morte non violente e quindi io sono una persona che non deve mai usare la violenza dice VV ok il lupo ti deve sbranare ma tu non provare a difenderti mai la strategia di VV tra parentesi l'ho messo io aka WC è quella di riuscire a mettere in difficoltà il piano che c'è in ballo per il futuro dell'umanità e quello che c'è in ballo per il futuro dell'umanità è questo e questo qua è bello questo andrà tutto bene e poi per chi andrà tutto bene non si sa però andrà tutto bene quindi effettivamente per chi ha questi piani per l'umanità Georgia the Guidestones se tante volte qualcuno non sappia cosa siano è un monumento dove è stato materializzato diciamo la filosofia questo mondo utopico che vogliono creare questi mostri che ci controllano questo mondo utopico purtroppo prevede che molti di noi devono gentilmente levarsi dai coglioni perché questo mondo nuovo non potrà avere più di 500 milioni di persone e in questo modo la fattoria è più gestibile per per i fattori for the farmers quindi quindi tu vuoi soluzioni ma d'altronde da altre onde voi pensavate che chi scrisse 1984 diceva tutte quelle belle parole c'è una previsione di questo mondo utopico e lui lo scriveva negli anni 50 1984 e lui prevedeva che sarebbe stato un mondo un sistema comunista e lui parlava perché in quegli anni c'era l'unione sovietica e lui diceva che l'unione sovietica sarà così ma in realtà tutto il mondo adesso sta diventando unione sovietica quando c'era il comunismo perché il nuovo ordine mondiale è comunismo alla fine poche persone che controllano tanti schiavi quindi come facevano loro cioè non era fantasia quello che scriveva lui là perché George Orwell era un po' in alto diciamo sapeva i loro piani per questo era così bravo a prevedere quello che sarebbe successo oggi e quindi quello non è fiction non è fantasia il libro 1984 e vi faccio ricordare che io ho caricato questo video che si chiama Be Happy Si Felice dove praticamente c'è una canzone americana hip hop di un certo Ice T che è impressionante il messaggio che dà no? e perché dice questo no? perché io adesso non lo metto perché c'è l'audio e bla 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 però è bellissima lui dice ripeto questo video lo puoi vedere nel mio canale e stranamente questo video non va molto perché forse non ho riuscito a capire questa è una canzone stata scritta negli anni 80 e quindi come faceva come faceva la gente a scrivere queste cose se non sapevano già insomma che c'era il rischio che poteva avvenire questo e poi adesso io collego questa cosa con la soluzione alla fine quindi avrà molto più senso tutto questo quindi dice il testo della canzone al volo interrompiamo i programmi per un annuncio speciale l'America loro parlano dell'America però comunque l'America è ora sotto legge marziale tutti i diritti costituzionali sono sospesi questa è la canzone state in casa dice non provare a contattare i tuoi cari stai zitto non pensare altrimenti diventi triste state in casa il coprifuoco è alle 7 in punto dopo lavoro adesso ci ritorno a questa immagine qua perché questa è ancora più impressionante questa immagine qua però la gente forse non sa la storia di questa immagine qua di questa vignetta qua ok adesso ci torniamo però andiamo avanti col testo però il testo potresti anche chiunque verrà colto fuori i limiti delle loro zone dopo il coprifuoco cioè giallo arancione verrà ucciso verrà ucciso state calmi e io ho fatto un'altra volta zoom qua perché dovete vedere qua questa questa vignetta cazzo questa è una vignetta fatta da un vignettista americano negli anni settanta cazzo anni settanta come facevano loro a prevedere questo perché chi studia un minimo il nemico ragazzi sa che il futuro sarebbe stato questo e quindi quando voi pensate che tutto questo sia un gioco che tutto ritornerà normale e che non ci sarà mai un mondo come 1984 voi sognate e voi sognate purtroppo anche su come uscire possibilmente da questo incubo secondo voi quale sia il modo di uscire da questo incubo vediamo qua la vignetta perché è impressionante ricordiamo anni settanta quando questo ha disegnato questa vignetta vedete ci sono tre tipi di cittadini qua A, B e C ok e qua gli dicono gli orari di A quando devono uscire gli A i B e i C questi qua sono tipo dei no-vax diciamo cittadini di serie B col codice e tutto qui c'è i nostri amici che lavorano per la nostra sicurezza guarda anni settanta con la telecamera qua capito questo questo i suoi cittadini c'è e poi nella vignetta vediamo se riesco a tornare indietro cioè in questa vignetta ci sono ecco qui benches for be citizens only quindi questa sedia qua è solo per i zozzoni non 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 vac e quindi si vedono in questa città diciamo la segregazione tra cittadini di un certo tipo e cittadini di altri io adesso non ho tempo di farvi vedere tutto il video perché il video lo puoi trovare ti ho detto come si chiama il video però ecco tutto questo per dire come faceva questa gente a a prevedere questo che stiamo vivendo adesso come faceva perché molti di voi purtroppo avevate la testa sotto la sabbia no ma il culo però sta per aria e adesso questo culetto sta per essere servito diciamo e guarda il telecamera bellissimo bellissimo anche tecnicamente il disegno e tutto bellissimo io non mi ricordo adesso chi era lui l'artista di preciso però in qualche modo se mettete questo testo qua lo troverete ah well at least we don't have to worry about anarchy anymore nel senso che ah perlomeno non potremo non ci sarà più da preoccuparsi degli anarchici nel senso perché adesso il sistema c'è molta più protezione e ricordo che l'anarchia è un concetto è è accettabile per me il problema è che l'anarchia prevede no anarchia nel senso senza nessuno che ti che ti guidi senza uno stato diciamo no funzionerebbe benissimo però come ho detto noi non siamo adulti abbastanza per per fare da noi serve un minimo di controllo di questo bestiame che è l'uomo però ecco se questo controllo fosse molto più nelle nostre mani e un po' meno nelle mani dello stato potremmo avere un minimo di organizzazione centralizzata diciamo uno stato però non al punto da non poterti nemmeno difendere da questo stato e a questo andremo andremo alla fine dove farò vedere la soluzione quindi riguarda qui la cosa qua vediamo un po' se mi sta registrando quindi il vc diceva insomma che c'è una persona che c'è questa entità che ti vuole uccidere è chiaro ormai anche quelli che non sapevano dei georgia guidestones hanno capito ormai o non hanno mai letto oppure hanno pensato che 1984 il libro fosse fiction tutti dopo il 2020 o quasi tutti ovviamente molto quasi tutti hanno capito che hanno brutta intenzione e vc lo dice però ti dice che la tua arma è al massimo una bomboletta quindi vi faccio vedere ora in questa imagining la costituzione una costituzione di questi coglioni gli americani hanno questa costituzione strana che da altre parti del mondo non hanno queste cazzate che hanno scritto loro qua ed è abbastanza importante questo articolo qua della costituzione perché l'hanno messo al secondo posto come importanza il primo se non sbaglio è libertà di pensiero di poter dire quello che vuoi no cosa che purtroppo qui non abbiamo non abbiamo più quindi noi abbiamo perso anche la cosa più importante che è libertà di parola siamo censurati e tutto quanto e secondo non abbiamo mai avuto questo diritto diciamo cioè è come se lo stato che tu crei che deve servire te ti dia lui i diritti per difenderti oppure meno perché qui parliamo di adesso mettiamo in italiano cosa dice questo secondo emendamento secondo articolo quindi dice perché è un po' difficile con questa immagine con questo programma maledetto che non mi fa spostare bene le cose come voglio quindi io devo cercare in qualche modo di ingrandire questa cosa così quindi un pezzettino non lo vedete però se sei andato su google lo vedete allora il secondo emendamento della costituzione degli stati uniti recita una milizia ben regolamentata è necessaria per la sicurezza di uno stato libero il diritto del popolo di detenere e portare armi non deve essere violato ora premesso che questo articolo questo articolo della costituzione è stata scritta da massoni e io sto notando che molta gente purtroppo quando parli di massoni oppure di illuminati ti vedono sono un po' come un pazzo ma in realtà questa gente qua a te ti piacerebbe tanto dare mettere il dito su qualche etnia qualche gruppo particolare qualche no gli ebb ebb a molti di voi siete tentati di dare la colpa a questo popolo qua ma ti posso garantire che non c'entrano niente gli ebb ehi perché chi fa parte di questa confraternità di massoni di chi controlla il mondo diciamo è gente che della sovranità nazionale della propria nazione appartenente non gliene frega niente loro il loro mondo è un mondo senza religione con un'unica religione con un'unica nazione alla fine e quindi a loro non gliene frega niente quindi se tu metti il dito punti il dito su qualche qualche nazione qualche particolare nazione che sta facendo tutto questo ti sbagli perché in alto siamo oltre le nazioni ok il loro scopo è unire tutto questa fattoria in modo uniforme che sia più gestibile un'unica religione un unico modo di pensare tutti i grigi non pensare perché grazie al V insomma non sarai più capace di pensare e ricordiamo molta gente non riusciva a pensare anche prima del V ma come ho detto il V è per far fuori noi che ancora pensiamo non per loro loro erano già morti il 99% quindi quindi erano erano coglioni questi qua che ricordiamo sì questi qua erano massoni che hanno scritto la costituzione americana però dovevano per forza attirare un po' di pecore da quella parte del mondo quando fu scoperta l'America perché non c'era molta gente lì e quindi diedero un po' di diritti molti diritti a queste pecore perché le volevano come bestiame lì in America e quindi la pecora che viveva in Europa da schiava del re quando vide che di là addirittura puoi difenderti avere il tuo modo un'arma per difenderti diciamo e addirittura la costituzione stessa ti dice che potenzialmente noi mostri che abbiamo creato per tutto questo cioè i massoni lo stato che stai creando pecorella con questo con questo contratto alla fine che è la costituzione diciamo potrebbe cioè questo stato che tu stai creando adesso ha il potenziale per diventare veramente pericoloso come un coltello si è un ottimo strumento però può farti male se non lo sai usare se perdi il controllo allo stesso modo loro sapevano che si stiamo dando un'ottima offerta stiamo facendo un ottimo prezzo alla pecora adesso questi massoni però era solo per attirarli dall'Europa e farli venire lì perché poi loro erano così bravi perché i massoni ragazzi chi controlla veramente questo mondo da migliaia di anni conosce la psiche umana più di quello che tu i tuoi freude i tuoi minchioni che sono cazzoni che loro ti hanno messo lì per per tenerti limitato e coglione loro conoscono la mente umana più di chiunque tu possa mai pensare perché altrimenti non sarebbero in grado di gestire miliardi di pecore che sono totalmente ipnotizzate non riescono a fancazzo e loro sapevano quindi che sì noi gli stiamo dando le armi a questi ma questi se noi gli leviamo il cervello loro non le sanno usare le armi ok e questo hanno pensato quindi possiamo farlo questa offerta perché tanto poi alla fine ci guadagniamo questi dementi alla fine daranno via tutte le libertà che gli stiamo dando e infatti in America per dire basta fare qualche attentato con gente controllata mentalmente che loro tengono magari fanno esperimenti in qualche prigione mettono in testa possono programmare una persona che non ha parenti non c'è nessuno che lo veda lo viene a visitare totalmente perso loro a queste persone li possono usare telecomandarle perché c'è modo di programmare una persona e fai quello che vuoi tu a comando ok un po' come fanno con le pecore oggi diciamo però in modo ancora più estremo diciamo c'è questo ci sono tecniche di controllo mentale che e con questi individui qua loro possono fare attentati qua e là e dire che lo vedi pecore che sei cattiva dobbiamo controllarti altrimenti fai un casino guarda che hai fatto pecorella ah pecorella guarda che hai fatto quindi ordine dal caos è il loro motto questo e loro creano sempre ordine dal caos che il caos che creano loro stessi quindi dicevamo no perché ci siamo un po' allungati eh loro sapevano quindi che e quindi che si basta un attentato attentato diciamo per togliergli sempre più questi diritti loro per dire no la costituzione non diceva agli americani per dire che che tipo di arma puoi avere praticamente le stesse armi artiglieria quello che cazzo vuoi tu hai il tuo governo puoi avere anche te addirittura questo perché se tante volte questi schizzati diventano come stanno diventando oggi pecorella tu hai la possibilità di difenderti non c'è niente di così strano in tutto questo è come se qualcuno ti sta dicendo dobbiamo fare una gara no con quella là che fanno con le spade i coglioni come cazzo si chiama cioè quello sport non dicono spada però dicono il fioretto cioè è come se in un duello per dire tu metti di fronte uno con una pistola e uno senza c'è qualcosa che non va pecorella solo nella tua testa uno stato delle cose come è qui in Italia per dire o come è nel resto del mondo eccetto in America solo tu solo la tua mente fallata purtroppo pensa che sia normale questo cioè fare un duello senza una pistola o come dico a molti che si pensano di essere guerrieri con una pistola di carta complimenti pecorella sei veramente sveglia e ti hanno detto basta la democrazia la democrazia ah questa arma potente per contrastare il nemico il nemico però purtroppo sei tu stessa pegora perché se vuoi vedere dove stanno i problemi diceva Bill Cooper che adesso vedremo guardate lo specchio e quindi con questa situazione ora in tutto questo vediamo se riesco che cazzo fa no no ora ok siete pazzi ovviamente morti non so come che come si dice che aggettivo usare mi mi mandate messaggi stupidi come questo qua che mi ha mandato una persona X però se questa persona vede il video capisce chi è e purtroppo sei una zomba mi dispiace amica mia però cioè appena vedono qualcuno che protesta per strada si pensano eh sì ecco ecco il mondo si sta cambiando stiamo uscendo da questa situazione c'è scritto qua Albania irruzione nella sede del partito democratico interviene la polizia e questa persona che ha un canale abbastanza grosso su Telegram ha condiviso questa notizia credo credo non ti voglio accusare di niente persona intelligente che ha condiviso questa notizia ora io capisco che questa persona non parli l'albanese come lo parlo io ma se leggi poco a poco oltre il diciamo poco oltre il il titolo c'è il sottotitolo qua che dice a Tirana capitale dell'Albania un gruppo di militanti del partito democratico fa irruzione nella sede quindi militanti del partito democratico cioè più zombie di così non si può fanno irruzione nella sede del partito democratico capite ora a che livello di zombaggine siamo qui indicibile proprio il blitz nasce da una disputa interna per la leadership cioè le pecore stavano litigando perché qualcuno vuole essere inculata da quel pastore lì e altre pecore di quel partito democratico vogliono essere inculate da quell'altro pastore lì e quindi stavano litigando no io voglio il suo cazzo no no voglio il cazzo no il cazzo suo è migliore capito bisogna essere così chiari perché altrimenti molte pecore non capisco e la gente appena vede minchiate del genere condividono subito così senza pensare e e c'è siamo inondati qui su telegram di notizie stupide come questa di gente che pensa che sogna che si possa mai uscire da questa situazione dove praticamente sei un prigioniere ma purtroppo non lo sai in modo politico diciamo in modo pacifico pacifico nel senso con la democrazia purtroppo è un'illusione che tu hai pecorella e per quanto tu puoi dirmi che io sono negativo e tutto quanto io ti sto dicendo guarda pecorella lo stato numero uno del mondo dice questa cosa qua quindi forse non sono dei coglioni totalmente che hanno una costituzione che gli dice che si devono proteggere da questo potenzialmente nemico interno che potrebbe diventare fuori controllo ma di nuovo sono io che sono coglione andiamo avanti allora un'altra persona qua mi mi ricorda che ci sono novità sul caso Biscardi che ho parlato nell'ultimo video dice ah qui girano altri audio agghiaccianti di Biscardi quello l'ultimo eroe delle pecore e secondo me lui è morto veramente mi ha detto questa persona e io gli ho detto prima qua gli ho detto dimmi un po' che voglio ridere quali sono queste queste novità e mi appare che è morto veramente e io gli ho risposto ma scusa che cazzo c'entra che questo individuo singolo sia morto oppure meno cioè se noi siamo in una battaglia tante persone non sono di fronte alla battaglia di fronte c'è il nemico tu immagina tutte queste persone sperano in quello che dice o che fa pendono dalle loro labbra una persona cioè tutte queste persone che fanno parte di questo battaglione tutte pendono in quello che farà una persona capito che follia pecorella ok tu mi dirai eh ma noi potremmo usare questa persona così ci dice quello che dobbiamo fare no pecorella all'uccello nessuno dice quello che deve fare vola insieme gli altri uccelli in sintonia perché non sono confusi come voi purtroppo pecorella e se tu vuoi far direzionare la tua vita ad un'unica testa diventerai schiavo di quella persona perché quella persona ti dirà quello che devi fare e la tua voce è inesistente lui ti potrà direzionare dove vuole e tu non capisci in che altro altro video che mi mandano qua e io ripeto sempre che non li posso vedere sempre di che si tratta ho chiesto e questa persona che adesso non faccio il no però lei adesso capisce di chi sto parlando però non so non c'è niente di male qua sto usando questo questa chat così per far capire questo concetto lei mi dice ah si stanno unendo le polizie di tutta Europa per dire no e io gli ho fatto notare scusa ma loro sono i cagnolini di di quelli che stanno in alto no cioè tutto questo non esisterebbe no se non ci fossero chi esegui gli ordini senza senza chiedersi niente diciamo e infatti c'è un video nel mio canale youtube dove quando mi hanno fermato mi hanno fatto la multa ho parlato con questo poliziotto e gli ho detto forse non vi rendete conto di quello che state facendo a forza di seguire ordini ci chissà dove finiremo gli ho detto no l'audio sta lì se volete sentire no mi ricordo di preciso il titolo e lui mi ha detto sì sì hai ragione hai perfettamente ragione mi ha detto ma ovviamente è finita la conversazione lui come primo obiettivo della sua vita priorità sono lo stipendio quindi quello che sta facendo non importa e come fa la polizia di tutta Europa a unirsi insieme per dire no a quelli che gli danno i soldi ci arrivi Pegorella ci arrivi Pegorella questi qua armati diciamo che vanno a fare guerra oppure sono proprio tu il nemico vero e proprio non lo vedi mai quello che effettivamente ti ferma a te no perché la pecora mette ah c'era quest'altra Pegorella qua che ha messo il nasino lungo ai draghi oppure prendete sempre in giro i politici non riuscite ad andare oltre per dire perché tu Pegorella invece di prendertelo con il politico che se tu capissi che non sta lavorando per te non lo chiameresti stupido quel coglione ma che coglione lui sta facendo un lavoro perfetto non sta lavorando per te sei tu il coglione forse però dico perché te la prendi con il politico e si sarebbe ovvio da parte mia a dire scusate c'avevo un po' di qualcosa sì ho sputato sì ho sputato e un pratico sarebbe troppo ovvio che tu ti aspettassi invece di prendere con il politico perché non te la prendi con quelli che controllano i politici no io faremo una cosa ancora più semplice perché invece di prendertela con il politico non te la prendi con la persona fisica persona fisica che ti ha fermato ti ha fatto la multa e sta eseguendo questi ordini sta quindi chi effettivamente fa violenza contro di te è quella persona lì che con la forza di della violenza ti sta fermando la vita capisci? i politici e chi sta in alto danno solo ordini ma sta la coscienza dell'uomo obbedire quegli ordini o meno e per il momento loro danno solo ordini folli ma chi li esegue sono questi order followers come si dice in inglese cioè esecutori di ordini senza cervello che spengono il cervello per avere la pappetta pronta perché non vogliono pensare capito? pecorella altre perle ai porci buttata lì così ovviamente lo dica questa persona questa cosa qua mi prende in giro che dire Alice Alice in Wonderland Alice Alice in Wonderland I'm Alice Alice in Wonderland continuiamo a sognare ok quello ho detto ok c'è altro? c'è qualcosa che non va ah no perché devo rimpicciolire per andare avanti arriva ora la soluzione ragazzi ecco la soluzione vedo che internet mi sia staccato però possiamo operare lo stesso la soluzione per diciamo togliere tutta questa nebbia dalla tua testa a me è servita togliere la nebbia dalla mia testa sentendo una una trasmissione radio storica degli anni 90 tu dirai anni 90 tutta roba vecchia non è roba vecchia se si tratta di Bill Cooper Bill Cooper è stato ucciso da queste persone che ci controllano perché rivelò troppe cose e durò per dieci anni in quella radio a dire queste verità proprio perché siamo parlando dell'america diciamo e lì c'è libertà di parola libertà di di tutto anche di difenderti e tutto quanto come dicevo prima ma quando arrivò il 2001 loro non potevano più lasciarlo parlare lui perché lui disse io mi sono svegliato per dire dell'11 settembre 5 anni dopo 2006-2007 lui come si dice previde l'11 settembre quindi c'è una bella differenza lui fece la previsione che ci sarebbe stato l'11 settembre io invece mi sono svegliato 5 anni dopo l'11 settembre molta gente magari 20 anni dopo l'11 settembre ok lui invece previde non so se l'italiano previde credo di sì però mi capito come si dice tipo prevedere non so io non sono molto bravo a parlare però mi capito no come faceva lui a prevedere che ci sarebbe stato l'11 settembre prima che ci fosse l'11 settembre perché non aveva la testa sotto la sabbia Bill Cooper lui lo diceva io sono stato una pecora per la maggior parte della mia vita però ad un certo punto mi sono svegliato e mi sono fatto schifo mi sono visto allo specchio mi sono fatto schifo sei un ignorante un coglione no diceva e non voglio esserlo più una pecora no disse e una volta che tu cominci a spulciare un po' il nemico puoi fare canzoni come fece tipo Ice-T agli anni 80 in questo caso stiamo parlando di cantanti che comunque lì potrebbe essere un fatto di pre-programmare la pecora ad accettare quello che sarebbe venuto però ti posso garantire che una volta che tu studi il nemico tu puoi prevedere quello che farà e quindi quando io dico perché molta gente mi chiede eh ma cosa facciamo forse non hai capito stanno per farci fuori perché lo dico io questo perché posso prevedere questa cosa qua perché una volta che tu capisci la loro filosofia non c'è spazio per libero pensiero per persone libere nel nuovo ordine mondiale siamo poco gestibili per loro in quel modo e quindi stai per morire pecorella forse non l'hai capito ti sembra tutto un sogno questo ah che bello guarda youtube ah questo è un youtuber che dice stai ah che cazzo ah fammi tornare telegram qua fammi sognare un altro forse non hai capito pecorella quindi Bill Cooper prevede l'11 settembre prima che succedesse l'11 settembre ok fammi vedere la composizione come sono ho usato muovermi e posso garantire e lui e lui lo diceva chiaramente perché ci sono tanti cazzoni no come il profeta no di Dio ci sono tanti profeti di Dio ragazzi che dicono che Dio gli parla e cazzi vari così però non dicono mai che quelle parlate con Dio diciamo non quelle parlate quindi che cazzo sto a dire ce l'hanno in modo molto più materiale meno spirituale diciamo queste rivelazioni semplicemente semplicemente leggendo un cazzo di libro alzando il culo e fare ricerca diciamo e quello ti dà la possibilità di parlare con Dio e prevedere il futuro è semplice però siccome molta gente vuole non vuole fare il lavoro questo è proprio un fatto del cervello umano che preferisce sempre fare la cosa più semplice però poi paghi le conseguenze quindi loro fecero fuori Bill Cooper dopo il 2001 ragazzi perché lui dopo l'11 settembre disse chiaramente quello che è avvenuto perché è avvenuto tutto quanto lui disse all'inizio perché cercava di essere un po' non dirlo proprio boom perché non c'era le prove subito appena era successo però lui lui diceva secondo voi questo attentato a chi è utile quando risponderai a questa domanda capirai chi c'è dietro l'11 settembre ha detto subito proprio lui addirittura l'11 settembre la sua trasmissione radio continuò per ore e ore live quindi la trasmissione che di solito durava un'ora o al massimo due certe volte e l'11 settembre durò per ore e quindi poche ore dopo che erano crollate molti di noi pensavamo ovviamente che sarà stato billato nei cazzi vari no? lui già aveva capito aveva capito anche prima che succedesse perché sappiamo che in America per dire questa roba di attentati così è iniziata prima perché c'è stata Oklahoma City con l'attentato negli anni 95 1995 credo e lì si è capito insomma che era tutta una cazzata fatta per mettere in atto poi leggi Liberty Children e stavo pensando una cosa un secondo sì in Italia Anca Anca in Italia Anca in Italia Anca ci sono stati questi attentati tipo Oklahoma City e 11 settembre eccetera eccetera solo che voi siete morti e non ve ne siete accorti tipo quello che hanno fatto a Bologna e altre parti no? quelle erano tutte così attentati per far abbassare la cresta a Pecorella e far crescere il potere dello Stato diciamo ma ovviamente sono io che sono il complottista eccetera eccetera quindi quindi Pecorella perché ti sto facendo vedere questo sito qua c'è anche un link qua che sta andando in su infomars eh ma tu hai rubato il nome infomars sì l'ho rubato perché perché il vero il nome originale è di Alex Jones Infowars ma io non credo che tu puoi fare una guerra con l'informazione e quindi l'ho trasformato in infomars Alex Jones purtroppo Pecorella che alcuni di voi condividono ancora Alex Jones è opposizione controllata e Bill Cooper lo smascherò negli anni 90 Alex Jones Pecorella pensate quanto sei indietro per questo io via vi consiglio di andare su questo link che vedete in sovraimpressione oppure qua non me lo fa cazzo sta sì sta qui sto link quasi ma non penso che si può se lo si può vedere ma io penso che anche se scrivi semplicemente Complete Cooper Amp3 Collection c'è un unico dettagliuccio però per voi pecorelle italiane questo questo queste trasmissioni che sono tutte in Amp3 per dieci anni sono un sacco sono in inglese purtroppo ma ti consiglio Pecorella di mettere anche semplicemente Bill Cooper su YouTube YouTube ha una funzione che ti traduce il testo per dire oppure potresti andare a trovare il suo unico libro che scrisse nel 90 nel no nel 90 sì però il era dicembre 89 però è stato pubblicato nel 90 che ti fa capire tante cose pecorella lui ma tu vuoi sapere per dire come l'hanno ucciso io so che a grande voce adesso voi pecorelle non perché Bill Cooper ragazzi è il mio eroe diciamo dopo Gesù Cristo ovviamente però terrenamente parlando uno dei miei eroi è Bill Cooper ragazzi perché come come fu come dovevano farlo fuori a un certo punto e lui stesso lo disse all'inizio di queste trasmissioni lui disse io con queste trasmissioni che sto facendo ho segnato il mio e io ripeto questa cosa in un mio famoso video che si chiama Operazione Mosè io con questi video che sto facendo ho segnato il mio destino che sarà morte questa gente mi ammazzerà per quello che sto dicendo io vorrei tanto succedesse la stessa cosa anche a me veramente ragazzi sinceramente perché il mio terrore più grande è cedere al nemico ragazzi è quella è il mio unico problema giuro lo stavo dicendo a un amico ieri sera qua su telegram io ho paura che a un certo punto cederò al nemico cioè la tentazione e il ricatto sarà troppo grosso e non e non potrò fare come ha fatto il mio eroe Bill Cooper che praticamente disse se chiaramente loro o cambiano questa costituzione che è bellissima la parola ci dà il diritto di essere liberi o io non rispetto le loro leggi perché sulla costituzione per dire americana non è prevista una tassazione così alta come avviene oggi e lui tutte queste tasse che non erano scritte nella costituzione non le pagava e diceva semplicemente volete che io paghi tutte queste altre tasse allora cambiate le leggi mettetelo chiaramente che siete dei terroristi dei pezzi di merda scrivetelo pubblicamente ma aggiornate la costituzione allora paghiamo perché questo è un contratto che noi abbiamo fatto noi popolo con te che è stato e accettiamo di rispettarlo però se tu mi dici una cosa nella costituzione però poi ne fai un'altra e non ci siamo quindi siamo alla fine ragazzi Bill Cooper come fu ucciso Bill Cooper questi porci che andarono lì armati ovviamente perché qualcuno dall'altro gli ha detto che devono fare questa cosa qua senza cervello senza capire che cazzo di cervellone era questo infatti io dico questa do questo link qua e vi dico di sentire Bill Cooper perché qui si va oltre qui si parla di psicologia non è psicologia nel senso si parla proprio del perché l'uomo è come è fatto e lui ti dice perché siamo schiavi ti fa capire è stato il studioso proprio numero uno degli molta gente quando dici illuminati effettivamente loro la loro organizzazione si chiama così perché loro sono illuminati e la Bibbia qua potrebbe essere una chiave per capire molte cose pecorella per quanto tu credici o non credici è fondamentale leggere la Bibbia perché capisci molto la filosofia di questa gente qua che ci controlla quindi se vuoi capire un po' meglio il nemico dovresti un po' un minimo leggere un po' capire un po' informarti un po' sulla Bibbia perché così capisci che loro si sentono quando Eva prese dal frutto dell'albero della conoscenza la mela liberò l'uomo da questo dio cattivo e siccome il serpente era il diavolo lucifero anche quindi luce diede la luce e la conoscenza all'uomo staccandosi da dio dalle limitazioni di dio ok ecco perché siamo illuminati loro si sentono illuminati cioè senza dio il loro dio è lucifero che li ha finalmente liberati da dio però ovviamente quando tu senti solo illuminati hai visto solo video dove illuminati illuminati e non capisci un po' meglio dietro però ovviamente tu sei pecorella e vai sempre alla superficie delle cose però ecco per quei veramente pochi sono arrivati fino alla fine di questo video e vogliono andare un po' sotto la superficie delle cose io vi consiglio prima di tutto di leggere la bibbia e poi di sentire bill cooper niente abbiamo finito è stato un video lungo però questo è un video importante perché molte pecorelle vogliono soluzioni e quindi alla fine di tutto questo qual è la soluzione che tu mi hai detto però non hai detto la soluzione ma ripeto non te la devo dire io la soluzione pecorella non devo essere io a dirti la soluzione pecorella perché se tu ti aspetti che qualcun altro ti dia la soluzione sei già schiavo pecore io ti sto dando tante soluzioni in questo video però a te ti fuggono da una parte dentro dall'altra esce perché tu vuoi la soluzione che ti danno questi minchioni su telegram dove sta il cazzone là dove sta il nostro eroe vc tu vuoi questo vuoi pecorella e attenzione c'è anche peggio di questi dvv almeno questo effettivamente ti fa fare qualcosa è una cazzata però almeno fanno qualcosa invece no i tuoi eroi pecorella vogliono che tu semplicemente segui un un leader un leader nuovo per un nuovo ordine mondiale e non devi fare nient'altro ecco sto cercando un modo figo di terminare questo video ma non ci sono riuscito e quindi lo stoppo qua è stato abbastanza lungo questo video vi ricordo che potete vi ricordo che potete mettere il pollice in giù ve lo consiglio e di non condividere assolutamente questo video condividete piuttosto le minchiate che vi dicono che non dovete fare niente ma questo video mai ti può piacere magari così personalmente però non condividelo mai perché non è molto figo condividere questo video sinceramente neanche io voglio che tu condividi questo video perché non voglio dementi intorno a me bye 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 Grazie.